Un saluto a tutti, per augurare un buon rientro a scuola, a coloro che ancora ci vanno, vorrei parlarvi delle cose più assurde accadute quando io andavo a scuola. Farò anche dei video sulle frasi più strane degli stavarcioni dei professori, ma in questa prima parte del video vorrei parlarvi delle cose più assurde accadute di quando andavo a scuola. Poi forse se ne vengono altre, forse ne farò un altro di video. Per il momento vi dico solo queste, poi appena possibile realizzerò il video sulle frasi strane dei professori. Allora, la prima, ricordo che quando andavo agli media, una volta degli ex studenti vennero a disturbare i professori fuori dalle finestre. Il realtà era una cosa che accadeva spesso, ma questa volta le cose andavano diversamente dal solito. Una di loro si era portato il pallone e stava prendendo a calci, praticamente, cioè pallonato il muro, o comunque cercava di prendere, non capite se aveva cercato di prendere la finestra o cos'altro voleva fare con quel pallone. Beh, sta di fatto che il professore saltò dalla finestra per incorrerlo. Lui si giustificò dicendo, no, che lì sopra c'era la tubatura del gas. In realtà, non so se è vero, beh, effettivamente, la finestra è alta, quasi due metri. Io quando vidi questa scena, perché veramente, di fronte a me è accaduto questo fatto, ero seduto più o meno agli ultimi banchi in quel momento, e proprio saltò da lì, che non credeva ai miei occhi. Saltò e mi si è iniziato a rincorrerlo. Una scena allucinante. Torno in casa zoppicando, e si prese anche qualche settimana di malattia, dicendo che si è fatto veramente molto male. Io torno in casa zoppicando. Mannaggia. Poi la vice del vicepreside, la vice del vice, diceva, ma scusate, cosa ci faceva il professore là fuori? Quindi abbiamo dovuto raccontare la scena, perché no, giustamente, come questo qua si prende due o tre settimane di malattia, e sicuramente, da come correva veloce, se lo avrebbe preso, il ragazzo, lo avrebbe preso sicuramente, chissà cosa l'aveva fatto perché era manesco. Poi, numero due. Alice, il professore, portava spesso il suo cane. Un cane, dunque giovane, cominciava un cucciolo, che era un meticciolo, non so che, era simpatico, anche come il cane. Ed era vivacissimo e indisciplinato, si faceva accarezzare, si faceva proprio a giocare ai luoghi di brutto. E un giorno, che ci crede, oppure no, il cane è orinato ai piedi della cattedra. Ma voi non immaginate la puzza. Ma fumava veramente un oghezzo di urina, che manco, chiamavano subito il bidello, e disse, ovviamente più pulisce la cortesia, prima che qualcuno venga a scoprire. Ma dai, ma come si fa a fare urina? A parte il fatto che il precedente cane, il suo professore, era stato volto in giardino della scuola. Perché quel cane che mi raccontavano, io non l'ho mai visto, era l'anziano, era buono, era educato, era sempre in classe, lo tenevano sempre, la sombra era. Questo cane, invece, non era, era proprio un discolaccio. Assurdo. Io ero seduto al primo banco quella volta. Siccome l'urina passava, praticamente, si muoveva, proprio che ne arrivasse ai piedi. Poi, abbiamo temuto che l'università succedesse una cosa simile. Non teneremo che se ne entro un cane, grandaggio, tutto sporco, l'avrebbe avuto. E poi, se viene a camminare tranquillamente, tutto torridente, tra l'legro, al centro dell'aula, il professore se disse, beh, allora, che animale abbiamo quest'anno? Ogni anno ne viene uno diverso, un uccello, un pipistrello, dice che, ogni anno che faceva il corso, in quell'aula, veniva un animale. Poi, un'altra episodio assurdo di quando andavo alle media, fu quando, fu quando il professore si dice a urlare, non so cosa capogli, quale motivo gli avessi fatto arrabbiare, devi rimanere in classe, suona la campanella, prende ed esce. Io quella volta, seduto al primo banco, vicino alla porta, non di fronte alla catta, vicino alla porta, e vedi cosa stava succedendo fuori. Mentre il professore stava per girare l'angolo, nel corridoio, due ragazzi, urlano in coro un insulto, basato su un gioco, di parole, arguto, devo dire, sul suo nome, io non posso dirvi quasi, per riservatezza. Ma è divertentissimo, è azzeccato, in realtà. Quello, praticamente, io racconto la scena accaduta, nel giro di tre secondi, contatti, lui si concede, di colpo, e ce lo ritroviamo immediatamente, nell'aula, a urlare, in maniera esterica, ma peggio di così, perché non mi viene proprio, mentre lanciava, gli oggetti aveva in mano, e per caso, colpisce in pieno, uno dei responsabili, perché si trovava, proprio sulla sua traiettoria. E continuò a chiedere, e la vede a rispettare, di qui, di là, ma come mi permette? prese, e mise non sufficiente, appena sul suo reggista, personale, a tutti, tutti i presenti, per punirci, invece della nota. Allo superiore, invece, è accaduto, un episodio, di cui sono stato testimone, diciamo, per metà. Mentre andavo in bagno, mi incrocio, due miei compagni, di classe, scortati, verso la classe, scortati in classe, dal professore, che responsabile, dell'applicazione, della gente fu. Sicuramente, entrambi i ragazzi fumavano, e dice, mannaggia, sono inguagliati, questi due. Io immaginavo, che stavano fumando in bagno, cosa vero, immagino, che facessero, spesso, i monolosi, i fatticoli, non risolvano, io voglio sapere, immaginavo, che i ragazzi, fossero stati, sorpresi a fumare, dal professore stesso. Invece, quando sto andando in classe, mi disse, frati, sei presto una scena allucinante. Il professore, pretendeva, che uno dei due, si togliesse il cappello. E adesso, il professore, si deve di matto, perché, l'educazione, l'educazione di qua, l'educazione di là, ma come, perché il progetto, non si insegnava, non voleva togliere, e per un paio, di tempo, si vise, a rincorre il ragazzo, cercando di togliere, da la testa, mentre nel corrido. E in classe, si deve andare di matto. Mi si era nota, anche se non ero il nostro professore, anche se non aveva nulla, a che fare con il, con, con il fumo, questa faccenda. E adesso, giustificò dicendo, oh ma il professore, mi doveva chiedere gentilmente, io me lo so ritorto il cappello. Poi, il professore tornò in classe, si sa, a continuare il discorso, e una delle cose che, che disse, fu questo, nuovo medioevo, il medioevo è tornato, ma che cavolo vuol dire? Poi, numero 5, poso di note scolastiche divertenti, che ne ho vissi, tantissime, io, veramente, a scuola, ne prendevano tantissimi, i miei compagni, io fui uno dei pochi, che non aveva mai preso, una nota in vita mia, mai. Però, qualcuno li nota, c'è stata, anche se non sono, assolutamente divertenti, franto a quello che ho visto su internet, uno di questi è, l'alunno, XXX, che era mongoloide, il collega di educazione artistica, il quale era appena uscito dalla classe. Per quello che hanno lo sapessero, il mongoloide, è quello che ha la sindrome di Down, è assolutamente bruttissimo, pesante, ma cosa si faceva ridere, che era la prossima, mongoloide, nella nota, non è che dicevo, l'alunno insulta il docente, no, proprio così. Numero 6, l'ale superiore, un ragazzo di nortaclasse, prese la seguente nota, l'alunno, talo dei tali, esce dalla classe, senza permesso, dicendo, vado da boh, in realtà, stanno andando alle macchinette, perché noi, in quella scuola, non avevamo il bar. Peccato, io credo che questo ragazzo, è simpatico, non lo vedo da dei tempi del liceo. Poi, una nota, scena comica, diciamo che si, si è risolta con una risata, c'erano ragazzi, di parte a casa accanto, con cui, eravamo, avevamo buoni rapporti, avevano anche degli amici, si è detto, proprio i primissimi banchi, nella nostra classe, c'era, beh, siamo stati bocciati, ragazzi, mettiamoci qua, ma si misero, davanti ai banchi, stavano davanti alla porta, proprio la gara di fronte, il professor, si stava avendo in classe, si rimase per un attimo, io mi gustai tutta la scena, che stavo seduto un po' dietro, proprio di fronte alla porta, mi gustai tutta la scena, mi gustai, il professor si è disorientato, perché non si riesce a capire, dove si trovava, perché aveva visto i due ragazzi, dell'altra classe, e noi tutti a ridere, ma il professor è stato, entri, entri, no, sono, sono infiltrati, vabbè, finito tutto con una risata, non era il professor è stato cattivo, anzi, peccato, poi c'è una cosa, fra il triste, e il comico, c'era il professor che aveva, sempre i problemi mentali, non so se avrei avere paura, di lei, o essere, a proporre pena per lei, paura ce l'avevo di lei, sicuramente, la storia, triste, abbastanza, e, se la vostra stessa, mi raccontava addirittura, non stasse per un periodo, gli occhiali da suoi neri, per non far vedere, gli stessi piangendo, per peccato, all'interno di interrogazione, capitava, che spesso, era tipico, che si alzasse, si mettesse sui stibili della porta, con la testa fuori dalla porta, e tu non sapessi che sa fare, si era interrogato, poi dice, parla, parla, continua a parlare, continua a parlare, e tu cosa, a chi dovevi parlare, al muro dovevi parlare, ma una notte, andò oltre, si si alzò di scatto, scappò fuori dall'aula, correndo con tutti i tacchi, che caro era successo, stavamo leggendo, se era interrogazione, non ricordo cos'era, mentre eravamo in un'altra, stavamo facendo un'altra lezione, la vedremo scorrazzare, con tutti i tacchi, tutta la velocità, ma come faceva una signora, obesa, con i tacchi, tozza, a correre, con quei cavoli di tacchi, che era una cosa, tipo flash, del fumetto, ma era una cosa su, ma come cavolo, che senso avesse, poi diciamo che la sua voce, la si sentiva ovunque, quando puniva, quando sorrideva gli altri, quando rideva, quando parlava, ma era una cosa tragicomica, noi ci potevamo aspettare, di tutto da questo insegnante, a nono posto, durante un'interrogazione, con il professore, più stronzo, della storia, dell'umanità, e vi sfido a trovarne uno peggiore di questo, entro nella vita di ragione, attraente, questo è tutto strano, questo professore, tutto strano, quando la signorina esce, il professore guarda, il ragazzo interrogato, con la faccia, da l'uomo, un po' mannaro, morso da un vampiro, il ragazzo interrogato, scoppia a ridere, guardandoli in faccia il professore, che si creano un silenzio nella casse, e scoppiavano, tutti a ridere, insieme a loro, perché ce l'ha capito, il fatto, che fra maschi, ce l'avevamo capiti, durante bella quella, e poi la fine interrogazione, dice, comunque se l'amento, faccio, se l'aiuto a rabbia, mi devi dire perché stavi ridendo, a questo ragazzo, poi, il ragazzo, una volta, durante l'interrogazione, a cui andò bene, se l'invento, di tutti i colori, sbagliò le pronunce, del quintesimo secolo, il filosofo Hobbes, lo chiamò Hearst, e forse, gli svistri, anti-crismi, dicevano anti-cristo, solo che non ricordo bene, perché è stato tutta la parte, dell'aula, in cui il quintesimo secolo, è rimasto nella leggenda, il rapporto non lo ricordo, ah, vabbè, poi la rimedie, noi gonfiamo, gonfiamo, no, no, io non ho mai fatto una cosa del genere, perché è disgustosa, come i ragazzi gonfiamano i preservativi, per giocare, come se fosse un pallone, è disgustoso perché è unto, una volta anche in gita, lo gonfiarono, facevano una cosa simile, bisogna dare a chi è in classe, c'era soprattutto, durante le supprense, avevano tutti i periodi di supprense, dove lanciavano, i cestini in aria, proprio, con tutta la robaccia, dentro la puzza, che manco, si poteva stare, poi un episodio assurdo, c'era uno scherzo da fare, che dovevo fare, a grado docente, che si era dicendo in generale, dove tutti quanti, ci mettono a fare, se 25 persone in classe, fanno così, si genera, un rumore, ma tu non puoi immaginare, sapere chi è, che lo sta facendo, a una sorprendente, facevano lo stesso scherzo, quella si interessa in piedi, fare, om, e si, na, 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 tutti insieme, alzatevi in piedi, tutti, e si sa fare tutta la lezione così, a dire, un garetti, om, tutta la lezione così, la poesia, fu una cosa, rimanemmo spiazzati, perché, da un punto di vista umano, era la più brava, fu l'unica che veramente, ti dico, più, più, molto tempo, a gestire le situazioni, umane, diciamo, in classe, perché, dal punto di vista umano, era stata la più brava di tutte, era solo una sorprendente, non era nemmeno italiana, era un'immigrata, tra l'altro, è assurdo, perché, più, più, più che insegnarci le cose, la sacco a cercare di insegnarci cose, a risolvere i problemi, sociali, diciamo, della classe, la situazione era molto difficile, durante anni, diciamo, ci ridi, su, su certe cose, bambinesche, all'epoca ci ridevi, basta, perché pensavi che fossero divertenti, adesso, diciamo che, quelle cose, si sembrano divertenti, altre no, molto meno, a dire che viene, è un problema molto serio, ad esempio, per esempio, i ragazzi uscivano dalle finestre, andavano al negozio, dove avevano raccolti i soldi, facevano una spesa, e nella ricreazione, mangiavano patatine, cose, cose dal negozio, così, tornavano dentro, uscivano dalle finestre, e poi tornavano, questa cosa si vedeva molto spesso, i ragazzi comunque uscivano, facevano i cavoli di oro, facevano il giro con la moto, e poi tornavano dentro l'aula, e c'è, dove stavano in bagno, chi ci ha mandato? un giorno il presidice, fece dell'ordine di chiudere tutte le finestre, e il ragazzo rimase fuori, è assurdo, e poi le grandi successivi, sono inferriate, alle finestre, diciamo, per il momento, ricordo questi, diciamo, saranno una quindicina di episodi, che avevo raccolto, per il momento, poi se non ricordo altri, ve ne dico, io per cui ho fatto questo video, perché magari qualcosa di divertente, nella scuola ci sta pure, però certe cose, diciamo che sono un po' meno, perché rispetto a una situazione, molto difficile, i ragazzi veramente indisciplinati, professori che, sono persone che, solo perché hanno un pezzo di carta, sono professori, che magari insegnano, in realtà sono devastati, ok, certi ragazzi, possono veramente essere, un po' schifoso a scuola, però almeno, c'è un certo dato positivo, che ci devo anche un po' divertire, magari posso succedere, comunque delle cose strane, tipo il cane che entra in aula, all'università, no, che caspia succede, quando poi entrono, gli appagonati dalla palestra, ci arrivano, dalla finestra, dalla palestra, in fine, diciamo, si può anche sorridere, in tanta scuola, perché veramente, non è un mortorio, io auguro un po' rientro a tutti, vi saluto, spero i video, vi abbia fatto sorridere, alla prossima.